E' stata una serata molto interessante e molto stimolante. Sono arrivate belle domande dal pubblico e questo vuol dire che il futuro del lavoro è già adesso. Ed è interessante per me perché spesso si pensa di posticipare la discussione su questi temi mentre in realtà abbiamo assolutamente l'opportunità di cominciare a disegnare l'azienda di domani. Abbiamo la possibilità di cominciare a disegnare le competenze che ci serviranno nel futuro. Per me è molto importante partecipare ad eventi come questo organizzato in Polidoro oggi perché abbiamo davvero la possibilità di co-creare quella che sarà la nostra modalità di lavoro del domani e quindi sono di nuovo grata per questa opportunità che mi è stata data.